Tempesta in corso su Twitter dove i fan di Lulu Selassie si stanno scagliando contro l'attuale fidanzata di Manuel. La famiglia Bortuzzo ha presentato Angelica Benevieri come la ragazza perfetta per Manuel, ma non lo sarebbe, questa è l'accusa dei fan di Lulu Selassie, e non solo. Sui social sta circolando da qualche ora un vecchio video di Angelica in cui deride i disabili. Pare siano stati alcuni sostenitori di Lulu, dichiaratamente in guerra con i Bortuzzo, a scorrere il profilo TikTok di Angelica fino a trovare questo vecchio video. La curiosità è sempre tanta, non è detto che questi fan si siano messi a caccia di vecchi errori. Tuttavia potrebbero aver curiosato un po' sul suo profilo fino a scovare questo video sulla disabilità. In effetti le immagini non sono affatto piacevoli, anzi. Nel video in questione Angelica entra in un bagno e si accorge che è per disabili. Il simbolo è disegnato su un foglio di carta, quindi pare facesse proprio parte della sceneggiatura. Il copione è questo, Angelica entra in bagno camminando normalmente, si accorge che è un bagno per disabili ed esce camminando male, con le gambe storte e agitando le braccia. Davvero una brutta immagine, non c'è che dire. C'è chi ha provato a giustificare il video di Angelica sulla disabilità tirando in ballo la sua giovane età. Da una parte è una giustificazione che potrebbe reggere, ma dall'altra no. Se un atteggiamento non appartiene a una persona, quella persona non avrà mai quell'atteggiamento. A qualsiasi età, la wufera si è scatenata anche per altri motivi, però. A qualsiasi età, la wufera si è scatenata anche per altri motivi, però. a qualsiasi età, la wufera si è scatenata anche per altri motivi. Grazie a tutti.